Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche e affettive per la seconda metà di novembre e abbiamo la carta della giustizia amici del Capricorno. Vi ricordo che queste sono letture affettive generali quindi possono riguardare sia gli affetti familiari che un rapporto di amicizia piuttosto che un rapporto romantico. Se siete single vi consiglio di integrare questa lettura con quelle specifiche dei single che sono già online. Trovate comunque sempre tutto nella playlist del canale. Con la carta della giustizia ragazzi si prevede un riequilibrio, può essere una fase di aggiustamento una fase di contratti, una fase anche di tagli per qualcuno. Quando c'è la giustizia si tratta anche di tagliare quello che non serve più fondamentalmente. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il sogno lunare oppure venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella playlist del canale, nella descrizione del video, scusate, e sempre nella descrizione del video trovate anche la mia mail, la vedete scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Allora partiamo con un bel lotto di bastoni, abbiamo un 5 di spade, un fante di coppe, la giustizia nuovamente, un re di coppe, avete le carte che saltano via e amici del capricorno? Nel senso che si girano subito, sono veloci. adesso l'ho appena detto e per l'ultima carta mi fanno rifare il mazzo tre volte, va bene. Allora, 8 di bastoni, 5 di spade, fante di coppe, giustizia, re di coppe, 7 di bastoni e regina di bastoni al contrario. Allora devo dire che con questo 8 di bastoni si parte forte, si parte con un'energia veloce, appunto, e normalmente l'auto di bastoni io lo considero un acceleratore delle carte che ci sono vicine. Quindi è come se arrivasse da un momento piuttosto di cambi rapidi, di notizie che arrivano, di comunicazioni veloci. Abbiamo anche questo 5 di spade, quindi immagino che tutte queste notizie può essere una o possono essere diverse, creino un attimino di confusione con questo 5 di spade. Potrebbero essere dei pettegolezzi, delle voci di corridoio, anche come questa sensazione. Abbiamo poi un fante di coppe che per qualcuno può rappresentare un figlio, vi dirò. E di nuovo la carta della giustizia, è come se si stesse aspettando un riequilibrio probabilmente di questa situazione. Andiamo a vedere con i mini terocchi, così vi do sfumature più interessanti. Andiamo a vedere l'otto di bastoni, abbiamo un set di spade, u quante cose che verrete sapere, e un dieci di pentacoli. Allora, può essere che vi arrivi qualche notizia o che vi dicano qualche cosa inerente, un gruppo familiare, inerente una famiglia o la vostra famiglia, quindi qui ci potrebbero anche essere questioni di eredità e con la giustizia due volte ragazzi. Però ho la sensazione tra sette di spade e roto di bastoni che qualche altarino verrà a galla, qualche cosa verrà a galla. Andiamo a vedere il 5 di spade. Allora abbiamo la temperanza, è un sette di coppa al contrario. Sì, devo dire che credo che questa notizia vi porterà parecchi pensieri e qui prima di tutto c'è bisogno di di calmarsi, di portare pazienza. Ok? Perché in questo momento è come se nella terza settimana di novembre riceveste talmente tante informazioni. Seconda, terza settimana, diciamo intorno a metà novembre, riceveste così tante informazioni da non capire più qual è quella vera e quella che non lo è. Vedere il fante di coppa. Regina di denari è appeso. Allora ragazzi, qui può essere una questione appunto anche legata sia alla famiglia e ai figli in generale. Dipende se siete voi figli e genitori. Però comunque è come se ci fosse una qualche proposta, mi viene da dire, che deve essere ancora riconsiderata. C'è un fante di coppe. Qui ho come l'idea che ci sia una sorta di romanticizzazione su quello che è l'attesa che state vivendo. Perché qui avete due carte di fermo. Sia la temperanza che l'appeso. Scusate ragazzi. Andiamo a vedere la giustizia. Ecco. Sei di pentacoli e fante di pentacoli. Non so perché ma ho l'idea che per qualcuno sia una questione tra fratelli. Qui c'è da ricalibrare quello che è un equilibrio di tipo monetario, di tipo materiale. Vi dico, essendoci anche una questione di eredità, probabilmente in mezzo, si tratta di rivedere un po' chi si occupa di cosa, o chi si occupa di chi. sento un po' come se vi volessero mantenere calmi. E le carte qua vi dicono state tranquilli perché con ben due volte la giustizia, arriva la giustizia divina. Qualcosa deve essere riequilibrato. Vi dico, per molti è uno sblocco di una questione burocratica, magari anche proprio a livello famigliare. Per qualcun altro è più una questione non proprio burocratica, non di carta, ma una questione o interno di equilibrio o di dinamica nella relazione. Andiamo a vedere quest'ora di coppe. Abbiamo un cinque di coppe e un quadro di pentacoli. Guardate ragazzi, ho anche la sensazione che tutte queste informazioni che possono arrivarvi potrebbero arrivarvi da una persona che conoscete, perché rivedo il re di coppe qui, no? Quindi se non avete nessuno e siete single, ma anche se il re di coppe rappresenta la vostra persona di interesse. Quindi è come se arrivassero una serie di informazioni inerenti a una famiglia, inerenti a un gruppo, inerenti a uno stato sociale, che creano questa confusione e un attimo di dubbio, di confusione, come se restaste spiazzati in un certo senso, per quello che poi c'è bisogno di rimettere in equilibrio le cose. Devo dire che con questo cinque di coppe e il quadro di pentacoli ci può essere una sorta di attaccamento al re di coppe che può essere il partner, può essere quel fratello di cui parlavo prima o potrebbe anche essere un padre. È come se ci fosse qualche cosa che non si lascia andare. Se la vogliamo vedere da un lato un po' più spirituale, qui ragazzi ho la sensazione che quello che dobbiate lasciare indietro sia la sensazione di vuoto emotivo. Perché in effetti con un re di coppe è come se le cose fossero mature, quindi non c'è più quella sensazione di vuoto, ma qualcuno è come se sviluppasse una sorta di attaccamento per quello che è un... sapete, se io voglio qualche cosa e non ho quel qualche cosa, ho diritto a lamentarmi. Nel momento in cui ottengo quel qualche cosa, non ho più diritto a lamentarmi e qui c'è una sorta di attaccamento alla lamentela per farvi capire la dinamica. Asso di spade e 5 di pentacoli. Guardate, qui qualsiasi sia l'attaccamento che voi provate, qualsiasi siano le cose che vi hanno detto e che vi hanno creato confusione mentale e quindi adesso non capite più a che cosa vi dovete attaccare, non capite più che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. È come se avessi bisogno di imparare a maneggiare la situazione, però qui con i set di bastoni è come se vi invitassero ad andare avanti per le vostre battaglie personali, per la vostra verità. Questa è un asso di spade ragazzi, parla proprio di dire la verità e qui anche il 5 di pentacoli è girato al contrario e quindi è un po' come se vi dicessero di uscire da questa situazione di cui vi dicevo prima, dall'attaccamento al vuoto. Vuoto emotivo, vuoto economico, attaccamento alla carenza. è un set di bastoni, è la carta di colui che guida, che lotta per la propria causa, come vi posso spiegare. È una carta di qualcuno che, come vi posso dire, sa quello che vuole, sa che è in una posizione di vantaggio e comunque, anche se è da solo a portare avanti la sua tesi, lo fa e qui con l'asso di spade è proprio quello. Se qui avevamo una confusione mentale, con l'asso di spade si tagliano i pensieri e arriva la chiarezza mentale. Andiamo a vedere l'argina. Asso di bastoni e 5 di bastoni. Interessante perché avete asso di spade e 5 di spade, assso di bastoni e 5 di bastoni. Allora, qualsiasi sia l'intenzione o l'azione di cui ci parla questo asso di bastoni, quello che poi voi farete a fine mese, il consiglio qui è di mantenere un profilo basso, ragazzi, perché ci sono tante voci intorno a voi, tanti pettegolezzi, tante falsità che vi raccontano e che vi confondono. Però, avendo la regina di bastoni al contrario, è un po' come se vi dicessero non fatevi vedere troppo in pubblico, rimanete per conto vostro, non parlate molto. Sapete, ci sono delle volte dove uno dice qualche cosa perché vuol far sapere che sa, vuol far vedere che sa. Ecco, quel tipo di atteggiamento lì è da nascondere con la regina di bastoni al contrario. Allora, vi devo dire, in ogni caso, sia che sia una questione familiare di amicizia, l'energia che sento è quella di tante notizie che arrivano verso metà mese da gestire, potrebbero essere notizie familiari, potrebbero essere questioni di cui voi prima ignoravate l'esistenza e che vengono a galla, tecnicamente. Ora, c'è da portare pazienza, c'è da stare calmi, vi dicono, cercate di vedere le cose da un altro punto di vista perché la confusione mentale sarà tanta. Ci sono anche delle false promesse qui, ragazzi, quindi fate attenzione a che cosa vi dicono, a chi ve lo dice. Poi però, nella seconda parte della lettura, è un po' come se le cose maturassero, grazie a questa giustizia, è un po' come se iniziasse a capire come giocare, quali sono le regole del gioco. E qui, con i set di bastoni, voi comunque continuate ad andare avanti per la vostra verità. Quello che non vi vibra non è per voi. E anche se è una relazione nuova, perché qui potrebbe essere che magari incontrate una persona nuova, una persona magari anche più giovane di voi, che vi dico, è un po' un tranello perché potrebbe essere o una persona molto matura, molto matura come età fisica, ma immatura a livello emotivo, oppure potrebbe essere una persona molto giovane a livello di età fisica, ma molto matura a livello emotivo. Qui le carte possono voler dire entrambe le cose. Sta di fatto che è come se tutto quello che è il movimento che andrete a vivere, ripete le regolezzi, tenete tutto per voi. Anche se decidete di incontrarvi con questa persona in modo un po' più intimo, perché l'asso di bastoni vi ricordo che è proprio l'incontro sessuale, l'incontro intimo, l'incontro passionale. Ecco, se così dovesse succedere, voi non dite niente a nessuno, fatevi i fatti vostri, che la gente vuole sapere le cose solo per sparlare. Sono certe persone che sembrano curiosi di sapere come va la vostra vita, in realtà è solo, diciamo, per... non dico tenervi sotto controllo, però ecco, tenervi sott'occhio è la parola giusta. Va bene, andiamo a vedere... wow, fidanzamento, la tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato. Ma di fatti, ragazzi, io qui ho come l'idea che da fantasy passi a re di coppe, però ci sono queste... Ah, tra l'altro, l'asso di spade parla di chiarire, parlare è la parola, quindi qualsiasi cosa vi vengono a dire, qualsiasi tipo di confusione mentale voi abbiate, di insicurezza, di ingiustizia vi sia stata fatta, è giusto che voi parliate con la persona, se voi pensate di dover essere perdonati o che l'altra persona abbia bisogno di essere perdonata, con l'asso di spade, ragazzi, è giusto parlare chiaro. Va bene. Amici del Capricorno, io vi ringrazio di essere stati qui con me, spero che comunque la lettura vi sia stata d'ispirazione. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Se avete piacere potete anche mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. I video riservati agli abbonati sono un riassunto di tutto quello che è servito a me durante il mio risveglio spirituale. Quindi diciamo che ho voluto creare una serie di mappa che sia una guida, era quello che avrei voluto io, diciamo così, quando mi sono risvegliata. Bene, se volete sapere quali sono gli argomenti trattati potete comunque guardare nella playlist del canale, sono quelli con la copertina viola. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio amici del Capricorno e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!